Aggiungo che Renzi i numeri non ce li ha, perché se uno ha i numeri non ha bisogno di ripeterselo come un mantra per cinque volte al giorno e che Renzi andrà a casa non per le scelte dei partiti dentro il palazzo, ma perché verrà cacciato da chi è fuori dal palazzo. Quindi noi contiamo sugli italiani, perché i parlamentari sa come prenderli in tutti i sensi, mentre gli italiani ha finito di prenderli.